Io conosco il nome di quello che si definisce gol mediatico. Io conosco i nomi di quello che si definisce gol mediatico. Delle testate giornalistiche che distorcono la realtà. Facendo passare il mio amico come nemico. Io conosco i nomi che ho acceso tutti. Tu, Giuliani e Aldrovanni. Conosco i nomi dei responsabili di migliaia di uomini, donne, bambini morti a causa dell'amianto. L'amianto. Ho indizi, prove e conosco i fatti. Ma i reati cadono in prescrizione. Io so i nomi di chi fa passare l'immigrato come problema principale. E poi lo sfrutta. Per abbassarci il salario. Delocalizzare all'estero il patrimonio industriale italiano. E minando tutte le conquiste del patrimonio operaio e delle sue rivendicazioni storiche. Sento di dover essere inesorabile. Di non dover sprecare la mia pietà. Di non dover spartire con loro le mie lacrime. Di non dover spartire con loro le mie lacrime. Sono partigiano, vivo. Sono partigiano, vivo. Sento nelle coscienze virili della mia parte già pulsare l'attività della città futura. Della città futura. Della città futura che stiamo costruendo. Costruendo. Stiamo costruendo. Scrivi perché abbiamo bisogno della tua intelligenza e della tua forza. Sostienici perché abbiamo bisogno del tuo aiuto. Sostienici perché abbiamo bisogno del tuo aiuto. Costruisci lotte e vertenze per far vivere il giornale nel conflitto di classe. Conflitto di classe. Abbiamo finalmente un tempo messi per la funzione direttamente ma non sanità. Grazie a tutti